La Calabria Alvinitali a Verona, la nostra regione presenterà le eccellenze enogastronomiche per il secondo anno consecutivo sarà presente anche la provincia di Reggio Come avete già sentito dai nostri titoli, la Calabria dei vitigni autoctoni più antichi sarà protagonista al Vinitali e Sol 2013 in programma a Verona dal 7 al 10 aprile protagonista alla regione per il secondo anno consecutivo anche la provincia di Reggio Calabria al servizio di Pino Guglielmo Dopo il positivo risultato riscontrato nell'edizione del Vinitali 2012 torna protagonista la provincia di Reggio Calabria con le sue aziende alla nuova edizione della Fiera Veronese L'assessorato all'agricoltura ha fortemente sostenuto la partecipazione delle aziende vitivinicole del territorio reggino al Vinitali 2013 addirittura duplicando l'impegno visto che la provincia parteciperà anche al Sol AgriFood con le aziende della filiera olivicola olearia inaugurando anche il brand Reggio Calabria, l'olio dei giganti Il progetto Reggio Calabria-Provincia Enoica continua dunque e si amplia Sicuramente il Vinitali e il Sol sono vetrine internazionali la provincia oltre a realizzare tutta una serie di eventi finalizzati alla valorizzazione dell'olio e del vino fornisce servizi importanti alle aziende tra i quali l'incontro con i buyers siano essi nazionali che internazionali La presenza della provincia alle più importanti fiere nazionali permette al comparto agricolo ed agroalimentare ha detto il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa di farsi sempre apprezzare in occasione di vetrine internazionali ma soprattutto di vivere occasioni di crescita e di confronto laddove la globalizzazione imperversa e nel contempo le produzioni tipiche ed identitarie di cui il nostro territorio è ricco sono quelle più apprezzate e richieste internazionali un po' grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti